pronto sì ufficio attività produttive sì buongiorno salve lei voleva aprire un negozio sì 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 può chiedere informazioni no 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 non ci sono più le licenze sì è un modo di dire che voleva la licenza per aprire un negozio ma adesso la normativa è molto semplificata adesso si parla di scia sì scia sta per segnalazione certificata d'inizio attività spiego come funziona lei deve verificare ovviamente da solo con il tecnici con persone non tecnici del comune no no tecnici suoi suoi architetti professionisti ingegneri che ritiene utile per poter verificare che ci siano tutti i requisiti sì la destinazione d'uso per esempio che sia commerciale che l'immobile abbia tutti i requisiti di altezze superfici per poter svolgere questa attività negozio sì anche se alimentare sì sì anche se vende prodotti alimentari non serve chiedere prima l'asra deve verificare lei che abbia tutti i requisiti la piastrellatura le altezze le depositi una volta che ha fatto tutto questo la procedura è molto semplice lei presenta una pratica amministrativa si chiama scia appunto con autocertificazione sì 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 è lei stesso che dichiara il possesso dei requisiti immediato lei da quando presenta la scia può iniziare subito l'attività quindi non è tanto l'adempimento successivo è le verifiche che ovviamente dovrà fare precedentemente no 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 non ci sono pareri da chiedere una volta che lei presenta la scia questa viene acquisita lei volendo per aprire il abbandone e aprire il negozio il giorno stesso dopodiché ci saranno i controlli a campione eventuali non è detto che vengano fatti sopralluoghi no no assolutamente assolutamente è rarissimo che ci siano dei sopralluoghi preventivi sì diciamo che non è solo questo adempimento deve tener conto che ha sia questa parte diciamo legata alla parte amministrativa la parte sanitaria poi immagino vorrà mettere un insegna quindi anche per l'insegna dovrà verificare che rispetti tutte le norme le condizioni i requisiti poi ci sono gli adempimenti tributari quelli vengono dopo una volta aperto dovrà pagare l'imu dovrà controllare eventualmente se c'è anche occupazioni di suolo pubblico davanti al negozio se vuol mettere banchini o o cose di questo genere sì ci sono una serie di verifiche prima deve avere l'idea di cosa deve fare e poi diciamo la parte amministrativa ormai è super semplificata questi controlli possono avvenire in ogni momento il termine massimo è un anno quindi lei in questo anno potrebbe appunto subire delle verifiche decorso il quale almeno che non abbia dichiarato il falso il i controlli cessano sì 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 scia per avvio di attività la normativa c'è una normativa nazionale ma fondamentalmente i requisiti sono stabiliti dalla normativa regionale ma questo i suoi tecnici sapranno aiutarla bene bene di niente arrivederci arrivederci